Eccoci qua, sono in compagnia di Gianmaria, al quale do il benvenuto su EG Magazine. Ciao, grazie, buongiorno. Allora, il palco dell'Ariston è arrivato anche per te, dopo starremo giovani, tra l'altro vincitore proprio di questa edizione. Emozioni? Tante, troppe. Tante emozioni, tutto stupendo. Cioè, mi sento nel posto giusto, al momento giusto, quindi meglio di così non può essere. Ascolta la tua canzone, mostro di cosa parla e perché proprio lei per questo festival. Guarda, la scelta è stata di Amadeus, a me sarebbe andato bene qualsiasi brano che gli ho mandato. Tu scrivi quindi i tuoi brani, le ispirazioni però da dove arrivano? Le ispirazioni arrivano da tutto, qualsiasi cosa, quello che provo, quello che mi succede e tanta musica, tanta arte in generale. Cosa ti aspetti da Sanremo? Da Sanremo mi aspetto di crescere molto a livello personale, artistico, in generale. Ho sentito che sei single, lo possiamo dire? Sì, sono single. Si può dire, si può dire. Ok, benissimo. E allora in bocca al lupo e viva la musica. Viva il lupo e viva la musica. Ciao. Ciao Egy Magazine, a presto.